Ipotesi di accordo la scorsa notte nella sede di Confindustria a Monza per la meccanica Valbona di Viminore di Scalve, azienda del gruppo Cassina che lo scorso mese di maggio aveva annunciato la cessazione dell'attività produttiva in valle lasciando senza lavoro 32 dipendenti. Rilevante il passo avanti fatto dalle parti sindacali dopo 8 mesi di intensa trattativa che ha portato al ricollocamento di almeno 8 lavoratori in una nuova realtà aziendale. L'accordo contiene appunto questo impegno dove l'azienda per due anni garantisce un minimo di fatturato di 700 mila euro per anno e questo dovrebbe consentire appunto la partenza di una nuova società. Dall'altra parte abbiamo inserito all'interno dell'accordo una serie di tutele attraverso gli ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione straordinaria per 12 mesi e un percorso all'interno di questa cassa integrazione attraverso la mobilità su base volontaria che attraverso un incentivo all'esodo permetta la gestione degli esuberi e quindi anche una ricollocazione degli stessi lavoratori. L'intesa raggiunta è stata presentata agli operai questa mattina nel corso dell'assemblea di fabbrica a Vilminore. Noi speravamo di tenere tutti e 31 gli operai però questa cosa non è stata possibile nell'arco di 6 mesi abbiamo lottato ma non era fattibile abbiamo visto che non c'erano le premesse da parte dell'azienda. Nel pomeriggio si è svolto un nuovo tavolo di lavoro con i vertici aziendali mentre già nelle prossime ore si dovrebbe definire l'incontro con gli imprenditori interessati a prendersi carico delle attività a Valbona. Siamo soddisfatti perché da un lato riusciamo a mantenere la presenza di una produzione di alta gamma per quanto riguarda la carpenteria meccanica in valle e quindi salvaguardare questa tradizione attraverso degli imprenditori che forniranno una parte della produzione del gruppo Cassina e dall'altro salvaguardiamo una parte dell'occupazione che verrà reimpiegata presso questi imprenditori. L'assemblea di oggi è stata un'assemblea molto movimentata e come previsibile è andato oltre il tempo che ci eravamo prefissati. Ovvio che la discussione è stata animata perché si parla comunque di una situazione particolarmente critica. È un buon accordo pur parlando in una situazione di cessazione di attività quindi è ovvio che sono emerse le contraddizioni. Se abbiamo impiegato così tanto tempo è perché ci abbiamo messo il massimo delle nostre capacità per portare a termine una trattativa che portasse il massimo delle garanzie che erano possibili portare a casa.